amici buongiorno e buon mercoledì a tutti iniziamo preparare la colazione qui sto facendo il pane tostato e poi me lo faccio con burro d'arrachidi marmellata e filadelfia e adesso andiamo a fare il caffè un bel cappuccino ma stanza a me piace freddo e latte la mattina a me piace anche se l'ho lavata è rimasta la puzza allora una con burro d'arrachidi a me piace l'altro mi piace invece di burro e marmellata filadelfia e marmellata è più leggero ecco tanto qua già ci abbiamo burro d'arrachidi ok ecco 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 vuoi che mi raccontate di bello state bene sappiate che mi diverto proprio un casino a leggere vostre critiche vostri commenti continuate così più criticate più i miei video salgono perché vanno virali purtroppo se non capite il senso di certi video è un problema vostro non mio e invece ringrazio tutte le persone che mi vogliono bene che mi fanno commenti positivi che hanno il senso dell'umore e che capiscono il senso dei miei video vi mando un bacione buona giornata io sto bene spero anche voi scrivetemi nei commenti voi come fate colazione la mattina ma questa è una delle tante colazioni al di solito preferisco cornetto cappuccino no 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 ma mia c'è piena ma questo sazia proprio molto il burro d'arachidi basta una fetta con un po di questo questo è un po sotto la giornata se fate una curazione così non vi viene fame prima di pranzo colazione finita ditemi se vi piacciono questi video mac bang dove mangio e parlo con voi io ve ne faccio altri vi auguro una buona giornata e un bacione anche i criticoni che sono i miei migliori fans